Ringrazio News & TV per la presenza oggi, giorno di attivazione ufficiale del sistema di videosorveglianza del comune di Lucera. Il sistema stesso è composto da 8 telecamere, 7 arrivano come visualizzazione dal comando Polizia Municipale, come è stato adesso inquadrato dalle vostre telecamere e una invece registra in luogo direttamente all'interno del castello. Tutte le visualizzazioni sono sempre protette come da norma e come prevede il garante per la privacy e hanno accesso solo le forze dell'ordine e naturalmente la Polizia Municipale. Sono orgoglioso di questo progetto che è nato dalla Polizia Municipale, è sposato dalle varie amministrazioni e che finalmente è giunto al compimento con, come dicevo prima, l'attivazione in odierna. Ciò comporterà un aumento della sicurezza urbana, una maggiore protezione dei monumenti della nostra città e si spera di aver dato un servizio alla cittadinanza e alla collettività. Grazie.